Senta Cavaliere, le faccio la domanda più difficile, quella che ci tormenta di più come bellunesi. Quella è la più facile per me, dallo solito che non va via d'Avola. Mamma mia. Dove chi va? Cavaliere Luigi Francavilla, allora innanzitutto grazie per aver accettato l'invito dell'amico del popolo per questa chiacchierata. Luxottica in questo 2021 compie 60 anni. La domanda prima viene spontanea. Quanti anni aveva lei, Cavaliere, quando Leonardo del Vecchio la chiamò qui a collaborare? Come avvenne quel primo contatto con Leonardo del Vecchio e con Luxottica? Il contatto avvenne prima per lettera, non mi ha scritto, io ho risposto, vengo giù a vedere e dico, non posso venire a scatola chiusa. È saluto giù, avevo 31 anni, ero già 12 anni che ero in Svizzera come attrizista specializzato. Chi è stato il tramite per questo rapporto? Il tramite è stato un mio amico di Padova che lavorava con me in Svizzera, che venne a lavorare qua ad Agodo da Parisenti, Giuliano Fabiano. Lui che era giocatore di calcio, del Vecchio era presidente della squadra di calcio, quando mangiava nel panino ha detto, conosci qualcuno di Svizzera? Sì, ce la conosco una, ma è un figlio che viene perché è sposato nella Svizzera, ha tre figli di Svizzera, non lì avevo tre figli di cinque, tre di un anno. Eh sì, si trattava di lasciare il posto dove aveva messo sua famiglia, insomma. E parlavamo sul tedesco in casa, parliamo ancora adesso sul tedesco. Davvero? In casa, sì. Perché sua moglie è Svizzera, appunto. E quindi lei da lì scende, dalla Svizzera scende e viene e vede questo posto. Ho fatto un primo mese di prova, ho chiesto io di farlo, ho detto, lui lì mi comincia, no, faccio un mese di prova, se alla fine del mese lei è contenta e io sono contento, firmiamo il contatto. E così fu. Una fabbretta piccola, 40 persone cercano. Eh sì, perché Luxottica era nata da pochi anni, no? Quando è arrivato lei. Era nata nel 61. Nel 61, quindi aveva 6 anni. Nel 68, ma la fabbrica era qua. Ma era un pochettino, ma la porta c'è qua dietro. E era già qui a Valcozzena. Qua, proprio qua. E lei che impressione ebbe di Agordo? Lei non era mai stato qui, non era mai stato da queste parti. Cosa ha detto? Dove vado a finire qua? Beh, siccome io ho sempre vissuto in paesi piccoli, sia dove sono nato, in Puglia, in Svizzera era un paesino piccolo, con una grossa azienda. Quella azienda in Svizzera è molto più grossa di questa. Aveva già 2.000 persone per qui. Ma il paesino era di 3-4.000 abitanti. Quindi non li aveva fatti... Sono gente di paese, ecco io. Quindi non le ha fatto impressione venire in un posto piccolo. No, no, assolutamente no. Il paesino di Puglia era piccolino, qua vincere a piccolino, poi nei paesi ci sta meglio che nelle città. Per me! Tanti profiscosità. Fatti vede che io sono sorpreso che Agordo, quando sono arrivato io, faceva circa 3.800-4.000 abitanti. Oggi ci sono abitanti, con 5.000 persone che lavorano qua in Sotica, il paese non è cresciuto. Perché io lo consiglio, gli operai li prendiamo qua nei paesi. Quei che vengono da fuori vanno avanti e dietro. Sono pochi di quelli che sono trasferiti in Agordo. Ma questo, ma questo Cavaliere, non è anche un fatto strano? No. Diciamo che la montagna si svuota, è da anni che la montagna si sta svuotando. Per cui il Gosalde pensa che faceva 2.000 abitanti e adesso ne fa 300. Agordo si è impicciolito come paese. Perché uno preferisce stare a Bellione dove c'è la comodità? O a Peltro o a... Uno preferisce fare il viaggio, credo che sia la strada più trafficata nella provincia. questa qua, ecco. Vedo passare le corriere a due piani che vengono in Luxottica ogni giorno e a volte mi interrogo su queste tantissime persone che frequentano questo posto e che qui trovano di che vivere, famiglie intere, insomma. Questa è una... Immagino che sia anche una soddisfazione, oltre che una responsabilità, per voi che avete creato tutto questo. La soddisfazione non è mai superata, diciamo. Ma lo è stato, lo è ancora, ma non è una cosa che io ogni giorno gli sono soddisfatto. Sono soddisfatto di quello che abbiamo creato. Se le dico Agordo, il primo ricordo che lei ha di Agordo. Come c'era arrivato intanto? I miei amici, ho fatto super amicizie con 45 persone che mi ricordo di quelli. E ci può dire qualche nome, magari saranno contenti di sentire. Per dire Ricchi, per dire Elio, per dire Renato. Agordo è diventata la sua patria. E d'altronde la Svizzera tedesca, da qua dista di 500 km, per cui non è che poteva andare lì dietro. Eh certo. Perché ho detto a mia moglie, io devo cambiare, devo provare. E l'occasione, non ci avevo mai pensato quando ero in Svizzera, di tornare in Italia. Ho visto l'occasione e ho detto, approfitto. Dopo l'azienda mi ha fatto un po' di pressione, ecco. Piccolina così, una fabbrica grossa con 3.000 persone. Un po' di obbligo ho avuto, per i primi anni ho avuto questo tempo, ma me lo trollevo dentro. Non parlavo con mia moglie, mia moglie, diciamo che tu puoi avere, però lei che non parlava la parola italiana. Allora dopo sei mesi era più contenta di stare qua, che in Svizzera io. Leonardo Del Vecchio, il fondatore, ha sempre mostrato verso di lei grande stima, fiducia e amicizia. Lei è stato vicepresidente di questo colosso per 30 anni. Prima di fare vicepresidente ero direttore generale. Eh sì, ma appunto, voglio dire, è una storia lunghissima, lunga decenni. Ma siamo cresciuti insieme, non mi sono neanche accorto. Da 50 persone, 70 persone, 100 persone, 1000 persone, siamo crescendo insieme. Pensa un po'. Perché conoscevo tutti per nome, diciamo. Noi abbiamo l'impressione che almeno un po' di questo successo di Luxottica si fondi anche sulla vostra amicizia, sulla vostra intesa. Siamo, la nostra conoscenza, eravamo amici, ma sempre molto, molto, signor De Vecchio, signor Francavilla, per cui non... Con rispetto. Siamo sempre rispettati, dopo lui aveva bisogno di andare a creare altre aziende e qua stavo io, da solo, con qualche cappetto torrico. Tanto, tanto lavoro, vero? Tanto, tanto lavoro, tanta passione. Tanta passione. Perché se dovessimo dire la chiave di tutto questo, di tutto questo successo... Diciamo, è la passione. La passione. E la trasparenza. Oh, che bello questo. Trasparenza, ci spieghi un po' meglio? Eh, ma diciamo, bisogna dire e si convince di quello che si dice e farsi credere. E conoscere le persone. Per questo è la persona che conoscevo per nome. Quindi un rapporto sincero, diretto. E poi ci vuole un po' di umiltà. Eh, anche questo è un altro concetto importante. Detto da voi che siete diventati un colosso mondiale. Sì, ma diciamo che il colosso è diventato la lusottica mondiale, ma faticando, perché noi eravamo gli ultimi. Sì, vedi, noi c'era Saffi, c'era Marcolin, c'era Lozza. Loro erano conosci, noi eravamo piccolini, proprio piccolini. Andavamo a trovare i clienti a Milano. Abbiamo, sono dei grossisti. Per questo abbiamo acquisito subito nel 73 la Scarrone, che aveva la parte commerciale Italia. Prima abbiamo fatto la filiale subito in Francia, a Palleggi. Dopo l'abbiamo fatto una in Germania, a Monaco. Abbiamo creato i punti di riferimento. Ma come avete fatto, da azienda piccola, a creare questi punti di riferimento all'estero? Ma andavate personale di qua? No, no, andavamo noi. Andavate voi? Così avevate sotto controllo? Io avevo la fortuna di parlare tedesco. Parlando tedesco, potevo andare benissimo in Germania a trattare con il fornitore e con il cliente. Quanto ha girato lei, cosa vuol dire? La settimana è fatta di sette giorni. Stavo in fabbrica più che potevo. E era l'estero, sabato e domenica. Però lei con la sua modestia, con il suo modo di fare, ha ricevuto un riconoscimento sorprendente dalla Cina, dalla città, dalla prefettura di Dongguan, che l'ha nominato cittadino onorario. E ho letto che lei è il primo occidentale ad aver ricevuto questo titolo. Sì, ma quando sono arrivati io in Cina, ci siamo andati con un interprete, in Cina era una pianura, non c'era niente. E abbiamo fatto una fabbrica con 12.000 dipendenti. Quindi lei dice che era difficile anche non notare. Quello ci sono andato io da sola. Io con Miyakawa, che è un interprete giapponese. E dal nulla avete messo su una cosa da 12.000? Dal nulla abbiamo messo su. In società con un giapponese, i primi due anni. Dopo, siccome i giapponesi e i cinesi non leggono tanto, abbiamo preferito acquisire il 50% dei giapponesi, siamo andati a soli. Noi, la fabbrica in Cina è più grande di quella là. Quattro volte quella là. E abbiamo sempre costruito un pezzo alla volta. Come questa. Adesso, in provincia di Belluno, quante migliaia di dipendenti ha Luxottica? Tra qui sedico... 7.000, 8.000 dipendenti. Che sono, su una popolazione piccola come è Belluno, sono tantissimi veramente. È un punto di riferimento per l'economia. E devo dire che abbiamo sempre avuto un turnover molto basso. ma l'italiano si attacca al lavoro, perché abbiamo tanti locali. Di più c'è anche gente... Io prendendo sempre i locali, perché le prime assunzioni le facevo, chiedevo, tu c'hai i fratelli e le sorelle, facevo qui, la famiglia si ingrandiva, e prendevo sempre dal Mars in su. Dopo abbiamo allargato anche a Sedico, a Belluno. Inizialmente cercavo di prendere gente locale. E qui, del vecchio, anche tante volte ha sottolineato, avete trovato anche la dedizione al lavoro, no? Gente che ci ha creduto da subito. Sì, crede che ormai noi avremmo pensionati, che ha fatto 40 anni di luxottica, quasi tutti. Ma senta, Cavaliere, oggi il mondo del lavoro presenta quasi come un valore il fatto di cambiare continuamente. Invece lei ci sta dicendo una cosa ben diversa. Luxottica ha apprezzato proprio la fedeltà. No, la parte dirigente abbiamo cambiato, aggiunto più che altro. non l'abbiamo mai buttato via uno, se vi chiedono qua, poter giudicare una persona ci vogliono anni. Anni. Ebbene aspettarle questi anni. Non bisogna pensare che questo qua viene e ti dà tutto. Non può darti tutto, non sa niente. Quando una volta che si integra l'azienda, allora rende 10 volte di più. Per questo il turnover qua è stato bassissimo. A me quando uno va via mi dispiace. Voi siete un esempio come azienda, anche per tutto quello che riguarda il welfare, per quello che riguarda il sostegno. Capace così di valorizzare le persone. Perché a me sembra che ci sia proprio l'attenzione alle persone. Diciamo che io ho sempre avuto i principi che è meglio avere delle persone che conosci, che sono andate qua, discrete. Noi abbiamo un assentismo del 4-5% in generale, che non è niente. Non è niente, veramente. Su tanti dipendenti così. Quindi c'è un attaccamento. Ma lei, Cavaliere, lo sente l'affetto che la gente di qua dimostra per voi. Sono 60 anni che ci siamo sempre comportati così e sono rara le aziende che sono state fondate dal fondatore e che oggi è ancora il fondatore che esistisce. Più unica che l'aria. E intanto Cavaliere Luxottica è diventata sempre più grande. Adesso c'è stato questo matrimonio anche con l'Essilor per il discorso delle lenti. e quindi le prospettive si allargano ancora di più. C'è tanti altri fidanzamenti. Man mano è gonoforico. Del vecchio continua a lavorare, a scavare. Anche questa strategia vostra di acquisire le catene credo sia stata una cosa vincente, vero? Abbiamo incominciato nel 1995 con le catene. La più grossa catena abbiamo acquisito in America, l'Handscraft e la grossa catena di occhieri americani. Poi sa, io ero giovane, a me aveva fatto impressione e suscitato un orgoglio incredibile quando giravano le prime notizie che la nostra piccola Luxottica voleva comprare Ray-Ban, che era un marchio mitico, no? In tre mesi abbiamo fatto le cose. Siamo incontrati in un paese di vacanze di Natale ai Caraibi, il primo approccio, a giugno avevamo già chiuso il contratto. E abbiamo chiuso tutte le aziende americane. L'avamo essere, dopo, c'erano loro 3-4 mila dipendenti d'America, fabbriche, che non funzionavano, e sono andato a fare un giro proprio di ricognizione, di vedere come stavano. Quando sono tornato, ho detto, beh, che ho qua bisogno di chiudere tutto. Mamma mia! Abbiamo incusato a fare qualcosa di noi, qualcosa che abbiamo fatto fare in Cina. In sei mesi. La Ray-Ban che vendeva ancora, allora, 3-4 milioni di occhiali, adesso ne vendiamo 40 milioni. L'avete reso anche un occhiale di qualità? Un occhiale di... Adesso ho un occhiale, prima aveva una grande fama, ma... Un bel nome. Un bel nome. Ray-Ban vuol dire occhiale. Eh sì. Ray-Ban è un occhiale. Alla metà. Ah sì? Siamo nati insieme. Anche il discorso dei marchi è un discorso importante, vero? Ma quello l'avevo fatto un po'... Cioè, ma non c'era di essere in concorrenza con gli avversari, cioè, Zaffer aveva un marchio, cominciate anche noi con Armani, e dopo avanti. Ma i marchi importanti che abbiamo noi sono Luxottica, Ray-Ban, Ockler, anche Alderman, l'ambiente nostra, Alnet, tutte le marchi nostre, che non ci togheranno, non toglieranno il salto. Eh certo. Adesso c'è stato un anno difficile, con la pandemia, con questo coronavirus, però... C'è stato difficile, ma però diciamo che noi abbiamo sempre lavorato, abbiamo sistemato l'azienda, su disposizione, tutta la sicurezza che serve, e stiamo lavorando a pieno ritmo. E avete già avuto dei risultati in questo primo trimestre, favolosi. quindi c'è spazio ancora per crescere? Ma ho tanto spazio. Tanto? Tanto spazio. Tra l'altro, Cavaliere... se vediamo che si vendono nel mondo 6-700 milioni di occhiali, noi facciamo solo 100 milioni. Avete ancora spazio, finché si vuole. L'occhialeria, prima che arrivaste voi, prima che Luxottica diventasse grande, era il distretto del Cadore. Eh sì. Lei come... Per gli italiani. Per gli italiani. Poi c'era un distretto in Francia, un distretto in Germania, un distretto in Cina. il Cadore era dove, puoi dire, è nato l'occhiale italiano, ma sono rimasti molto artigiani. Le grosse aziende del tempo, sono spostate a Padua, come Saffato, Saffero, Lungarone. Quindi, secondo lei, il distretto dell'occhiale è ancora utile, ha ancora senso? Luxottica, in qualche modo, si rapporta a una realtà di distretto? No. Lo costruiamo. Eh, lasciamo gli stasci. Sennò io non sento mai parlare male di un concorrente. Anzi, se dico, se va bene lui, vado bene anche io. E quando va male, se si sente sui giornali, si affria, quali... Così, io sto male. Poi, da una crisi mondiale, ma non ci sarà, penso. Ma mi dica un attimo, ancora, sul discorso della pandemia. Voi, come Luxottica, siete stati ancora una volta un esempio. Va bene, avete anche grandi disponibilità di soldi, però, li sapete anche, li sapete usare. I soldi li abbiamo fatti. Eh, li avete fatti. No, però, voglio dire, c'era l'esigenza delle mascherine, vi siete messi a fare mascherine. no, ce l'ha chiesto lo Stato, dare una mano, se avessimo possibilità di farla. Noi abbiamo detto di sì, e in tre mesi, abbiamo spostato le macchie alla nostra palestra. con la solita efficienza incredibile di Luxottica. Adesso state dando una mano per le vaccinazioni, perché avete appena aperto un punto vaccinale, che diventa un luogo importante per tutta la nostra provincia. Avete collaborato anche con l'Università di Padova, al tempo dei tamponi, per arrivare a procedura. I tamponi qua, l'abbiamo fatto solo per noi, con il familiare e anche il non familiare. Ne abbiamo fatto cento mila tamponi qua, ad Agordo. Poi vorrei ricordare un altro piccolo particolare per dire come Luxottica sa essere presente e sa essere un modello. Voi date una mano alle famiglie perché facciano studiare i figli. Sì. e negli ultimi anni avete aperto addirittura i corsi di formazione alla cittadinanza, non solo a Luxottica. State facendo qualcosa di veramente grande. Così piccolo il paese. Senta Cavaliere, lei e la sua famiglia, voi avete scelto Agordo. Avete scelto di restare qui, avete fatto degli investimenti negli ultimi anni anche nel turismo, in questa vallata e anche a Belluno. Questo significa che anche voi come famiglia Francavilla credete nelle potenzialità turistiche di questo territorio? Beh, turistiche, facciamo qualcosa, non ci diamo al turismo, diciamo. Io ho fatto quello che ho fatto, ho fatto proprio per gusto personale, diciamo. Però appunto, siccome non sbagliate un colpo, se l'avete fatto, vuol dire che... che noi abbiamo perso soldi, che non abbiamo perso soldi. Senta Cavaliere, con il suo sguardo lungo, questo Agordino e questa nostra provincia di Belluno, che si spopolano, che si portano dietro questo senso un po' negativo, di che cosa avrebbero bisogno? Mi crede di più un bel bel nese, mi ha creduto più di se stessi. Io ho visto ultimamente, abbiamo dei dirigenti che vengono da Milano, da Turino, da Genova, che abitano qua a Belluno, e sono ben felice, anzi, sono quasi più felice di abitare qua che in città. In famiglia, c'è uno che ha cinque figli, è contentissimo di stare qua a Belluno. Lei e il Cavaliere del Vecchio siete al lavoro. Nonostante la vostra età, voi continuate a lavorare, continuate a dirigere questa gigantesca azienda. Sono stupito di una cosa, in particolare, della vostra capacità di essere moderni, di andare al passo anche con la tecnologia. Abbiamo pubblicato sui giornali la fotografia di Zuckerberg, capo di Facebook, accompagnato qui dal Cavaliere del Vecchio. questo è uno sguardo lontano vostro, voi sapete guardare avanti. Una cosa così normale, una cosa spontanea, che ci incontriamo, perché poi ci sono anche i ragazzi giovani, i figli del Vecchio che vivono in America, che hanno questi contatti, ce li portano, ci sono presentati, tu come eras qua con me del Vecchio. Senta Cavaliere, le faccio la domanda più difficile, quella che ci tormenta di più come bellunesi. quella è la più facile per me, la Losortica non va via da cosa. Mamma mia. Dove che vada? In Cina ce l'abbiamo, in America ce l'abbiamo, noi abbiamo strutture lavorative in America, la Frutti Regi, la Oakland è grande come la Losortica, in Cina è più grande della Losortica, dove che andiamo? Ma mi dica, ma le montagne, le curve, le strade strette, non sono un ostacolo? No. Se fosse più larghe, sarebbe meglio, ma comunque no, non sono un ostacolo. Quindi vi avremo con noi, insomma, resterete fedeli qui. Non c'è nessuno, proprio mai passato per la testa quella di Andalia. ma io dall'Agoda siamo andati a Sedico, a Pederoba, a Cengelighe, a Rovereto, a Laureano, ma siamo qua. Quindi continueremo il trucco. Il centro resta Agoda. Lei prima mi diceva non avete fatto grandi festeggiamenti per i 60 anni. Perché? Anche perché la pandemia e questa roba qua. Sì, però a 60 alla fine aspettiamo un traguardo significativo. per me non è il traguardo di 50, di 60, di 70. Potrebbe essere quelle di 100. Perfetto. Allora ci sarà tempo per preparare. Ma quelli che vengono dopo i giorni sicuramente andranno avanti con l'orosotica come noi e non dico meglio uguali loro. Forse anche meglio. Mi auguro meglio. Eh, se stanno nella scia non potrà che essere. Ci stanno sicuro. Le persone che contano sono diverse adesso. Sono guardate bene. E' una tanta passione come abbiamo avuto noi. La più piccola la più grande. per fare. Per fare. Per fare. Per fare. Grazie a tutti